Orazione a Gesù Crucifisso da recitare tutto il mese di novembre. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mentre io, con tutto l'amore e con tutta la compassione, vado considerando le tue cinque piaghe, cominciando da ciò che disse di te, o Gesù mio, il santo profeta Davide, hanno trafitto le mie mani e i miei piedi, hanno contato tutte le mie ossa. Chi dopo la comunione reciterà con cuore contrito e con spirito di devozione la predetta orazione dinanzi a qualunque immagine di Gesù Crucifisso, pregandolo per i bisogni della Santa Chiesa, potrà conseguire l'indulgenza plenaria. Santo Protettore Tutti i Santi Santa Caterina Vergine e Martire Oppure Sant'Andrea Apostolo Sia fatta, lodata, in eterna esaltata, la giustissima, altissima e amabilissima volontà di Dio in tutte le cose. Firtù da praticare La pazienza Primo novembre Solennità D'ogni Santi Gloria dei Santi Entra con lo Spirito in cielo Mira Quante palme vi ondeggiano Mettiti Tra le fila delle anime vergini Dei confessori Dei martiri Degli apostoli Dei patriarchi Che numero sterminato Quale gioia Vieni anche tu Incontrarono gli stessi pericoli Trovarono anche essi spine Dei santi Non sono insensibili Le anime in cielo Anzi Amandoci di vero amore Ci vogliono con loro E partecipi della loro stessa sorte beata Il Signore Il Signore ce li offre Non saremmo forse esauditi Prattica del giorno Recita Le litanie dei Santi O cinque pater Chiedendo a tutti Una grazia per te Nel nome del Padre E del Figlio E dello Spirito Santo Amen